Ti vuoi mettere con me? Un, due e tre Ecco Insieme a tutta la craft università Spero che il video vi piacerà Mi raccomando arriviamo a 2000 like per questo video Farmi double E vabbè praticamente il gioco si basa Che noi abbiamo delle vie Ovvero Avete mai giocato a un, due e tre stella Con i vostri compagni di classe Al parco no? Praticamente sarebbe la stessa identica Sarebbe la stessa identica cosa Ovvero uno sta qua E praticamente noi dobbiamo cercare di arrivare Da quel tizio e toccarlo Senza farci vedere appunto Intanto che lui si gira Perché lui farà un, due e tre stelle E dobbiamo stare fermi Siamo ovviamente con tutta la craft università Siamo con Meg, Shark, Yumi, Spancho e Sense Ciao Ciao Che cosa ci fai là? No, no, no Ok Va bene dai incomincio io Ok Un, due, tre Stella Un, due, tre Stella Ah Un, due, tre Stella Ah Spancho ti ho visto muovere Vai indietro Ah 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 sensi vieni qua senza capito che ti piacciono i pulsanti dai sensi vieni qua tutti pronti a tutti quanti vabbè dai ma devi contare di fare secondi non millisecondi 123 non mi piace che tu bari quindi va indietro lo so tu sei carino tu puoi parare agli ma che cosa dici zitta aspetta vai vai pronto sono pronto no no ma quel tempo si è no che dovre città oddio raga sono proprio al bordo io non so come ho fatto cosa sta facendo senso ma che cavolo stai facendo dai sali su aiuto mi sei bloccata la tricamera ha avuto una paralisi facciale se rimettiti lì rimettiti non barare devo fare il giro giusto bravo 1 2 3 se là spancho sbrizer stavo qua stavo vai via no io resto qua no devi andare più indietro ancora 1 2 3 se là no 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 faccio io qua tu devi salvarmi hai capito con te sto parlando mamma mia brutta sei ora ti lascio ma cosa non mi soddisfa abbastanza ehi guarda che quello brutto sei tu eh no non io io ho i capelli rossi non è vero ehm ragazzi spancio è stupido io mi non piace spancio non mi piace per niente no dai spancio vieni che dobbiamo giocare senza è una zucca ah una zucca è un maiale in mezzo alle 1 2 3 se là senza non barare non usare le hack senza vai via via come hai fatto a trovarle non mi ha dato il mio maiale che sono meglio devi tu ok non iniziate a fare gli isterici per favore dai zitta zitta mi non piace per me ok 1 2 3 stella 1 2 3 stella oh 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 allora vediamo un po' ho visto meg e shark no no che cosa shark si ti ho visto shark ti ho visto io mi ti ho visto ma io mi non ho visto niente io mi ti ho visto 1 2 3 stella ah sans sans e spancio 1 2 3 stella oh shark è scomparso shark 1 2 3 stella dai dai ma solamente io mi sta prendendo raga com'è il mio trofeo più grande io mi dobbiamo perché io accetto ancora di fare queste cose con voi io mi dobbiamo offrire di chiedere il posto a qualcun altro vai dai io voglio farlo io voglio farlo io voglio farlo io voglio farlo io vai spancio dai non fare storia e conta va bene se contare no giusto tu più o meno ok va bene 1 2 3 stella nel video di oggi faremo una challenge che è tra le mie preferite ovvero la 1 2 3 stella e senza senza che è caduto di sotto perché saluti ogni volta che sono 2 3 no è tutti quanti ma no anche iumi anche iumi si è mossa si è mossa di invece si è mossa no mi accade sempre si è sfigato iumi si è mossa vai ecco 1 2 3 stella mi sono scordato di cacca minare 1 2 3 stella dark no come 1 2 3 stella dark va meglio ma il fatto di sotto stanno ma come fossi 1 2 io mi ho preso ma no non è vero io mi no in realtà ho vinto anch'io quindi contiamo insieme vai contare insieme vado loro che collaborano queste strane insieme insieme tu è meglio di una cosa sei sense è l'armatura di mucca mettila di fare il cosplay di yumi adesso io mi ho una cosa adesso yumi no yumi è anche quindi yumi può si è cacciato dal mondo questa è la mia migliore amica ragazzi questa è la mia migliore amica che caccia fuori spancio come faccio io praticamente non lo vuole nessuno mi ha preso il mio mio ex è non so di funzionare ho sentito cosa ti hai detto shark a parte il fatto che nell'ultima volta abbiamo scoperto le due fantastiche avventure con lui shark tu cosa fai con meg giochiamo a carte dai 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 cominciamo incominciamo dai dobbiamo contare dobbiamo contare va bene vai vai uno due tre stella freezer come faccio ad essere io non è vero ecco bravo uno due tre stella tutti quanti ma dopo sto salto per me è difficile il mio porco è quello che fa cosa fai il senso cosa si sa provisci allora uno due tre della fancio fancio è caduta ma lo manca stanno della cicata finiamo di litigarci dai ha vinto senso ha vinto senso se avete in game o zero io mi dovevo far vincere il freezer così io mi potevo avere una possibilità possibilità su cosa no 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 anzi se no evitiamo e vi aspetta aspetta no 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 vai via no vai via no non uno due cinque sette stalla 2 c'è il 3 e dopo c'è stella ok ok non stalla ok uno due tre stella arrivo prima di yumi e prima di shark uno due tre io mi ho vinto ah no l'ho colpito io l'ho colpito io dai vabbè shark dai insieme a contare bellissima idea albito e fantavolo dopo mi coprirò gli occhi allora 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 un lola un penso non va due aspetta aspetta raga raga andate tutti indietro e perché non mi muovo sono studi no ii mi non si muovi mi è mi metti tante non vedi ii mi non si lo sbraio mi la voi la chiave del suo appartamento no 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 1 2 3 stella iumi torna indietro ma cosa io non mi sono morto la pancia è caduto direttamente 1 2 3 stella ma io mi è caduta aiuto no ah vabbè io ero già partito in quinta vai 1 2 3 stella a tutti tornati indietro no no non è vero no no vi ho visto muovere proprio andare sul blocco guarda iumi non ti do comunque la chiave 1 2 3 stella scotti indietro ma perché? è vero sto parlando io mi sento 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 guarda spaccio cosa fai? spazio modifichi sens ma ti sei fatto una strada 1 2 3 stella dove è andato? sei incavato nella roccia questo cos'è i cittadini di cattiveria proprio 1 2 3 stella si ha vinto ha vinto spazio dai spazio facci sognare mag eppure non è che sia così tanto difficile tu hai vinto già nel hai mai quindi tu hai vinto isterica isterica ma capito ma io adesso sto bianco a picchiare adesso sto bianco a picchiare adesso sto bianco a picchiare no di nuovo no dai ci sono ci sono anche io 1 2 3 stella è soccato da primo non deve avere questa strada no appunto leva tutti questi blocchi facili si chiama chi cade prima esatto 1 2 3 stella 1 2 3 stella e vabbè non ho capito bisogna essere solamente pazienti vabbè rare meno una volta 3 stella me e yumi non è vero yumi torna indietro io mi torna indietro io mi torna indietro no se vuoi fare l'intelligente meno molto ogni tanto guarda se 1 2 3 stella 1 2 3 stella e mag mag ho visto non è visto sì invece stiamo girando la testa stiamo girando la testa 2 2 3 stella vinto 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 vabbè ha vinto vai ultima volta mag e via dai vai siete pronti o perché donna deve avere la probabilità 3 2 1 sì vabbè 3 2 1 che cos'è è la contrario scusate 3 2 1 stella io mi piace questo elemento ah proprio completamente ok 1 2 3 stella tutti ma com'è 1 2 3 stella vado non so saltare un blocco 1 2 3 stella ma do io ho convinto ero convinto falcio indietro spanto perché ma 1 2 3 stella no senso sbrida ma com'è ma è possibile 1 2 3 stella tutti come è suicidata ma mai che deve fare la pro player di sta roba cioè ma che è un 2 3 stella aspetta mi spanto ma che cavolo dai dai l'ultimo voglio vincerlo io l'ultimo dai è arrivato shark arrivato ok ragazzi spero che il video vi sia piaciuto come sempre cosa c'è da un po che volevo dirtelo però non ho mai avuto il coraggio di sbrire ti vuoi mettere con me